Grazie. Buonasera Appello, Scanagatti, Pacello, Pascariello, Maffè, Sala, Adamo, Piani, Artesani, Bindi, Braccio, Bubba, Cereda, Fuggetta, Fuggetta, non c'è, ma se sono fuori in corridoio, Gerosa, Cereda, Guarnaccia, Imperatori, Lamperti, Mancuso, Mancuso è assente, Mandelli, Mariani, Marinoni, Martinetti, Monteri, Morasso, Novi, Piffer, Piffer presente, Pilotto, Pugliese, Riga, Sassoli, Traina, Valtolina, Villa. Allora sono presenti in aula, sono presenti in aula 16 consiglieri. Scusi, scusi consigliere Riga, consigliere Riga, scusate, 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 allora sono presenti in aula 16 consiglieri, il numero legale in questo momento non è raggiunto, da regolamento farò l'appello in un secondo momento e comunque non oltre le 19.30. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. tutti. Grazie a 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 tutti.